Mi ha preceduto un secondo, mi scusi. No, no, signora, non credo che ci siano altri tavoli di te. Prendi qualcosa? No, sì, sì, grazie, vorrei soltanto un cassetto. C'è strano, neanche io ho appicchiato. Come vedrei non sono più una bambina, ma sono ancora convinta che non bisognerebbe accettare caramelle degli sconosciuti. Ah, ti aspettami, ti ragione. C'è garfini, per esempio, Alessandro Gastaldi, signora. Francesca Rosso. È così difficile trovare un tavolo qui. Scusi, può portarmi un cassetto e macchiato con latte freddo? Anche per me, Francesca. Avvicinare queste parti? No, 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 però lavoro qui vicino. Bel quartiere. Non mi succede spesso, ma non... Non riesco a trovare proprio niente da dirle. Per me è il contrario, mi incuriosisce. Parlerò io, ma sapendo che di solito non è piacevole sentire ripetere i convinti sul tempo, cercherò di trovare un altro tema di conversazione. Avendo imparato che le signore preferiscono evitare di parlare di politica, inizierò con l'unico argomento che sarà piacevole per tutte le due, anche se forse è sufficientemente sfruttato. Alluda ai complimenti. Lei è molto altra lente. Vi raffascinate. Posso continuare? Il suo silenzio mi può supporre di sì. Offre una sigaretta. Con piacere. Prego. E che sta dentro? Comunque, lei ha ragione. I complimenti non ci annullano mai. Sposate? No. Sederate? No. Di dove? No. Non ho esaurito il retta storia. Conosco delle altre definizioni per l'ostante civile. Madre nubile di tre figli che frequentano con profitto l'università. Mi costringe gentilmente a non fare più domande. Perché no? A soggezione delle ragazze madri. Un altro no. Non ho paura delle donne e adoro i cavalli. Ah, e perché si limitano i cavalli? Già, capisco di essere frainteso. Ma i miei nomi non le dicono niente? Malgrado io abbia vissuto in Inghilterra per lunghi periodi a causa di parte di interpersonali, ho preso parte con successo senza preferire una vendiera a numerosi tornei internazionali di polo. A lei non piace il risposto? Non credo. Mi dispiace, dedico quasi tutto il mio tempo allo. Questo non toglie che potrei essere interessato al suo. Di cosa si occupa? Di moda. Lavoro in una boutique. Io le donne non le ho mai vestite, è maschilismo. Lei è elegantissima. Ah no? Non vorrà andare via visto che non ci hanno ancora buttato il caffè. Ah, ah, la scusa è parata. È stato un piacere conoscerla. Grazie a te. Posso, posso rivederla qua? Ma chi lo sa, è possibile. In questo piacevole viale ci sono dieci isolate con tante cose, soprattutto delle biblioteche. E io lavoro in una di quelle, come me. Possibile. Cercherò di supplire alla mia ignoranza e ripasserò diligentemente la storia del polio internazionale. A presto. A presto. È l'escluso per aiutarlo, signor. La ricerca è stimolante. Sì, è possibile. Sì, è possibile. Sì, è possibile. Ciao